Mi chiamo Anno, ho 33 anni, vengo dalla provincia di Ferrara e sono mamma di due bambini. Ho deciso di fare questo intervento di rinoplastica perché credo che il mio naso sia un po' troppo pronunciato e non adatto al mio viso. Per una serie di paure e incertezze da anni ho sempre rinunciato, ho sempre accantonato l'idea, fino a che un giorno visitando il sito del dottor Pallaoro, leggendo alcune recensioni, mi sono convinta e ho chiamato. Infatti tre settimane fa ho fatto la mia prima visita e l'incontro col dottore mi ha liberato da ogni dubbio e trovo che sia una persona in gamba e con anni di esperienza alle spalle. Faccio un lavoro che mi porta spesso ad essere a stretto contatto con le persone perché ho un'attività, un negozio di abbigliamento e molte volte evitavo gli sguardi di profilo proprio perché il naso un po' così con la gobba mi recava imbarazzo. Oggi mi trovo qui per fare l'intervento che dovrebbe durare una ventina di minuti, spero che vada tutto bene e che il mio nuovo naso mi dia più sicurezza di fronte alle persone. Grazie a tutti. È passato circa un mese dall'intervento, il mio nuovo naso mi piace un sacco, sono strafelice del risultato. E' come l'avrei sempre desiderato, già dopo una settimana ho potuto vedere qualche piccolo risultato, anche se ancora ero un po' gonfio, però ero già contentissima. Il percorso fatto nel post-operatorio l'ho vissuto serenamente perché non ho mai avuto dolore né tantomeno lividi, ematomi, che erano la cosa che mi spaventava di più in assoluto. Anche al lavoro si sono tutti accorti di questo nuovo cambiamento e mi hanno fatto i complimenti, quindi sono molto soddisfatta. Infatti voglio ringraziare tutto lo staff medico della Palla Oro Medical Laser, dalle ragazze della reception che sono carinissime, allo staff medico che si sono presi cura di me per tutto il percorso dall'inizio alla fine fino a oggi. Se ripenso a quante paure avevo, a quante incertezze, a quanti dubbi che mi hanno sempre trattenuta al farlo, adesso posso dire in tutta sincerità che se avessi potuto l'avrei fatto anche prima perché veramente è molto meno di quello che pensassi e sono contenta.